ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi faremo un video un po più leggero infatti si tratta di un tag io sono stata taggata dalle due sorelle le martinos sinceramente li dovete seguire assolutamente perché sono due ragazze molto molto divertenti e che fanno vedere delle cose bellissime stiamo parlando di palette stiamo parlando di ombretti stiamo parlando di chicche pazzesche infatti vi consiglio anche il loro profilo di instagram dove vi aggiornano se ci sono degli sconti delle offerte un po più particolari quindi vi consiglio proprio la loro pagina infatti tramite loro io ho fatto degli acquisti infatti mannaggia a loro mi hanno taggato in un tag che aveva fatto antonella pagliano o paglino non mi ricordo intonella pagliano pagliano comunque antonella che conosco anch'io e quindi subito visto che sono stata raggata ho deciso di fare questo tag allora sono un po domande parliamo di palette allora prima domanda la palette che mi rappresenta a livello di colori allora devo dire che è stato difficile veramente molto molto difficile non credevo non sapevo che fosse così difficile scegliere le palette per queste domande devo dire che ho avuto un po di disagio comunque la palette che mi rappresenta di più nell'ambito per quanto riguarda i colori questa devo dire che la palette che mi rappresenta di più e vi dico anche il motivo ovviamente allora qui trovate tutti malva possibile immaginabile chi mi conosce sa che io adoro il malva lo adoro sulle labbra lo adoro sugli occhi mi piace tantissimo e quindi più malva di così non si può io adoro il color malva sui miei occhi sulle labbra proprio questo colore sembra fatto apposta per me e quindi è un colore che mi rappresenta in tutte le sfumature infatti qui ne abbiamo alcune e anche tipo per quanto riguarda dei glitter che io ogni tanto mi sbizzarrisco e voglio anche dei glitter sul mio viso quindi questa è la palettina che mi identifica di più in assoluto perché ha i colori che io amo di più in assoluto adesso sto uscendo anche dalla mia comfort zone quindi state ben attenti ai makeup che sto realizzando perché veramente sto uscendo fuori dalla mia zona quindi comunque questa è la prima palette poi seconda domanda la palette che più mi rappresenta a livello di packaging non me ne vogliate per l'ideatore di questa palette ma devo fare assolutamente vedere questa di jeffree star questa ha una corona e stefania significa corona non mi ricordo in quale lingua comunque significa corona e poi a me piace tantissimo il velluto specialmente il color viola che io adoro anche se vista così potrebbe sembrare qualcosa di brutto ma a me piace il viola e soprattutto la corona perché mi identifica proprio per quanto riguarda il mio nome non me ne vogliate per l'ideatore ma io i prodotti ce l'ho e li utilizzo poi andiamo avanti e qui dice la palette che mi comunica felicità allora la palette che mi comunica felicità è questa la carnival 3 e vi dico per due motivi uno perché vi faccio vedere il range di colori che ha questa palette e voi mi dovete dire se questa palette non vi non vi dà felicità né vederla perché è una rainbow palette quindi una palette con tanti colori e la cosa che mi piace di più è che potete variare il makeup che potete fare quindi a me i colori fanno sorridere e quindi mi rende felice per quanto riguarda la palettina e poi soprattutto perché è stata la palette che ho utilizzato quando ho fatto la masterclass cioè quelle mini masterclass che ha fatto vittoria vittoria benfenati io spero che poi ne farà altre io ho partecipato a due delle sue e lei utilizzava spesso queste palettine anzi noi tutte che l'ascoltavamo abbiamo utilizzato quasi tutte questa palettina quindi questa cosa mi rende molto felice perché mi ricorda la masterclass che ho fatto e che mi è piaciuta tantissimo e dove ho appreso molto infatti in questo periodo non so se riuscirò a fare tanti video perché sto partecipando a un corso online per quanto riguarda il makeup quindi se non sarò troppo diciamo attiva nel canale mi scuserete ma è perché sto facendo una cosa che a me piace tantissimo visto che non posso andare di presenza almeno li farò tramite youtube diciamo internet no youtube internet poi la palette che mi sa di primavera allora la palette che mi sa di primavera è la trio chrome di natasha denona perché mi sa di primavera per i colori oltre il pack bellissimo duo chrome trio chrome come caspita si chiama questa aspettate se no che è cieco questa mi sa di primavera perché perché ha quei colori proprio adatti alla primavera giusto abbiamo detto giusto la primavera no sì per quanto riguarda la primavera vedete tutti i verdi che abbiamo il rosa il lilla per me questi colori proprio rappresentano la primavera questi colori tipo salmone questo cioè a me questa palette mi identifica la primavera proprio la stramo è una delle palette che io adoro di più in assoluto perché mi piace proprio il range di colori mi piacciono la sfumabilità che hanno alcuni colori e questa palette si mi richiamo molto molto la primavera proprio i colori della primavera adoro adoro adorissimo andiamo avanti e andiamo alla prossima domanda andiamo alla prossima domanda che dice la palette più dark più grunge allora non me ne vogliate perché era un'edizione limitata sono stata molto fortunata ad acquistarla sto parlando della metal matt di kevin beauty adesso vabbè il brand non si chiama più così ma questa è la mia più dark che dark non c'è oltre del pack ovviamente tutto cartonato fatto così proprio metal matt bellissima e soprattutto anche per quanto riguarda i colori che sono un bel po' scuri e sono i colori diciamo che utilizzo di più in inverno mi piace molto mi piace molto e questa proprio è la mia grunge dark palette rock come rock così è vero? rock poi andiamo avanti la palette più femminile che posseggo allora la palette più femminile che posseggo è questa ovviamente il pack parla da solo perché è una palettina di huda beauty mi piace tantissimo questa mi è stata regalata alla mia migliore amica per il compleanno la adoro in tutte le versioni veramente mi piace tantissimo proprio il pack ha di un femminile che non vi dico e la parte di dentro la identifica pure scusate se avete il riflesso ma è la palette che lo dà perché ci sono questi colori che mi proprio parlano di femminilità in assoluto questi sono colori abbastanza tenui ma particolari che mi danno quell'effetto un po' più particolare e mi dà quell'effetto di femminilità proprio della palettina e poi soprattutto il pecco esterno che è una cosa incredibile e pazzesco non ce n'è non ce n'è non ce n'è delle martinos proprio perché l'ho presa proprio per loro ed è la caledeos non so se vedete il video prima o dopo in caso ve lo metterò qui sopra ed è questa palette che è di un divertente pazzesco perché ha questo effetto particolare e soprattutto e dico soprattutto a questi colori che ditemi voi se non sono divertenti e saranno anche divertenti nell'utilizzare perché c'è quest'arancio questo blu il fucsia poi tutti questi glitterati molto molto bello cioè il range di colori mi piace tantissimo cioè questi aranci sono dei colori molto particolari questo mi ispira tanto quindi è un divertimento nel guardare questa palette perché sembra un dei colori tipo da utilizzare in una tela e fare un make up per vedere la realizzazione di un make up poi molto divertente come esposizione come esposizione dei colori mi piace mi piace molto quindi la reputo divertente andiamo all'ultima palette dove dice la palette che mi ispira di più allora non me ne vogliate sarà il periodo sarà perché è appena uscita e perché la posseggo da un bel po' cioè da poco tempo scusate perché la posseggo da poco tempo è Serendipity di Melissa Tani è la palettina che sto utilizzando di più in assoluto infatti la vedete sporca perché la sto utilizzando in tutte le versioni mi piace tantissimo ed è la palettina che mi ispira di più in assoluto perché forse essendo l'ultima essendo l'ultima entrata a casa mia cerco di utilizzarla anche per fare più make up e più cose più particolari e devo dire che il range di colore mi piace molto sia per quanto riguarda i toni freddi che quelli caldi che i neutri che stanno al centro mi piace tantissimo ed è la palettina che mi sta ispirando in questo periodo e che sto utilizzando tanto 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 veramente tanto quindi questa è la palette che utilizzo di più bene questo è tutto per quanto riguarda questo tag ovviamente anch'io saluto Antonella saluto le Martinos per avermi taggato e ovviamente a chi posso taggare? voi stesse a chi posso taggare? ovviamente taggo le mie due socie le mie make up angels quindi taggo sia Fabiana che Betty così da riprendere un pochettino il ritmo per quanto riguarda i video perché siamo un po' indietro per quanto riguarda le make up angels che torneranno al 100% quindi piano piano ci stiamo riprendendo tutte piano piano quindi il mio tag lo spedisco direttamente alle due angels spero ovviamente che faranno questo video e niente che dirvi per quanto riguarda questo video è tutto vi mando un gustissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao